Ho appena cambiato nome su Stambul Guys e mi chiamo esattamente come il mio numero di telefono che ho appunto qua Su questo telefono ora andremo in partita e vedremo se qualcuno mi chiama oppure no Allora Foxy, su Fortnite questa cosa funzionava al 100% Mi ricordo che scrivevano un sacco di persone Su Stambul non lo so, tu hai mai provato? Io sì E? Funziona? No, non ci ho mai provato però sarò curioso di vedere come... Ok, io già mi immagino che mi scrive tipo un bangladino Che mi parla in marocchino e mi inizia ad insultare come imbaranzo a Milano Oh, comunque io sono diventato fortissimo su Stambul Guys, eh Cioè, fidati che mi sono messo... Ora vedremo, ora vedremo chi la vince stavolta Tanto dimmi un po' chi è il primo, come al solito oserei anche dire Il primo è 3, 3, 4... Non direi il mio numero, non direi il mio numero Foxy Non direi il mio numero, non direi il mio numero Comunque guarda un po' chi è il primo, anzi il secondo Io Sei tu il primo? Sì, fra, sono io il primo Ah, quindi io mi sono fermato per far passare te? Sì Foxy ti avviso già in questa mappa qui, io sono un animale Sono fortissimo E comunque per ora non mi ha ancora scritto nessuna Non ho ancora controllato bene, ma non mi è arrivata nessuna notifica Però ci sta Cioè, secondo me deve finire il game Sì, vabbè Attento ancora, hai la modalità a non disturbare No, 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 no Oh, cavolo, la modalità ero, c'hai ragione, la modalità ero Aspetta, aspetta, la tolgo, la tolgo il volo, la tolgo il volo Ok, l'ho appena tolto, ok, l'ho appena tolto, l'ho appena tolto, l'ho appena tolta Perfetto, perfetto Aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo Ho tolto tutto, eh, ho anche la suoneria Quindi se qualcuno mi chiama, sento il 100% Cioè, Fra, ma già tre persone eliminate Ma com'è possibile che tre persone già sono morte? Cioè Vabbè, tu sei il quarto, no? Guarda che per morire adesso devi proprio non avere le mani, Fra Cavolo, questo Oh, madonna Come hai fatto a salvarti, come stai stai rotolando? Che culo Faxi, guarda un po' che è il primo Ragazzi, indovinate nei commenti perché qualche volta lo chiama Faxi Così, con questa voce acuta, così Ma sai che non lo so neanche io? No, aspetta, oddio Oh, sai che io sto facendo una roba assurda? Che probabilmente è barare in questa mappa Cioè, sto passando, sto Hai presente che tipo c'è il bug che puoi passare tra i contorni? No, cioè, sì Sì, sì, c'è un bug, sicuro lo conosci? Sicuro, è sicuro L'ho appena utilizzato, come ho fatto? No, no, giuro, giuro Al 100% lo conosci Come ho fatto a morire in questo momento, Fra? Fra, è letteralmente impossibile sta mappa Silenzio, silenzio Madonna, quanto sono forte, che cosa sto facendo? Oddio Fra, ti dico che sto usando tutti i bug possibili ed immaginabili Ce li sto usando tutti, Fra, non ce n'è uno che non ha usato Let's go Guarda un po' chi è il primo Guarda un po' chi è il primo 3, 2, 1 Let's go Ecco il primo, chi è? Il migliore? Zerbi Sì, a voi avete fatto cagare, eh Però sono io il primo E non mi ha chiamato ancora nessuno 3, 3, 4, 3, 2 No, stai zitto di numero Zitto, zitto, zitto Fra, comunque per ora nessuno mi ha chiamato, eh, raga Guardate, ho la modalità Che sono normale Fra, non mi ha chiamato ancora nessuno Ed è strano perché ho anche addirittura vinto la partita Mi aspettavo che almeno una persona mi chiamasse Fra Oh, Fra, che è? Mi sta chiamando qualcuno Numero sconosciuto Zitto, 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 zitto Vai, vai Pronto? Hai? Fra, non mi risponde Hi Hi What's your name? Eh? I don't understand Where are you from? Where are you from? I'm from Milan You're from Milan? Ma parli italiano allora Fra, sei coi Sono io Ma vai a No, che schifo stampa qua Fra, giuro, la odio La odio di brutto Fra, pensa che era la mia preferita Ma, ma come hai fatto a baggare? Fra, mi sono baggato in una maniera clamorosa, eh Ma tu dove sei? Cioè, com'è che ti chiamo? Io sono il primo, Foxy Ma se il primo sono io, come fai adesso? Sei il primo Ma che dici? Odio No, ti prego No No, Fra Mi hai riportato all'inizio Sono il primo, sono il primo Non puoi essere tu il primo, sono io il primo Ma, Fra Ma se muori ti riporto all'inizio, non ci credo Ma cosa stai dicendo? Sarà che non hai preso neanche un checkpoint, Fra Sono il primo esattamente, eh Se tu non ti qualifichi, Fra, veramente sei la persona più scarsa del gioco Ma, Fra, come faccio a qualificare? Ok Vabbè, Fra, 16 persone si qualificano, dai Se non ti qualifichi qui, veramente sei ridicolo Io intanto sono il secondo, io sono il secondo E Fra, è impossibile, Fra Dove sei te? Voglio vederti te, voglio vederti te Fra Dove sei? Dove sei? Foxy, ecco di qua, Foxy, Y, T Ti prego Vai, Fra Foxy, salta Brava, brava, ma è schifo Ma sei una merda Non ti credo, Fra Ti dico solo che c'è una nuova legge che l'ho messo da poco Che chi muore in questa mappa ha il pisello più corto di 7 centimetri Ah, sì, dici? Giuro, giuro Mi sa che chi vince Foxy, allora voglio un mega coaching adesso, eh Cioè, mi devi proprio cocciare Vai Ok Allora, allora, innanzitutto la prima tecnica qui è quella di stare dietro E aspettare Ti devo insegnare io come fare Allora, e buttati Oh, oh, oh Oh, oh Vabbè, però già di passi avanti li ho fatti Ok, basta Ora sto andando Devi calcolare la radice quadrata del blocco a secondo dell'angolo in cui ti sei buttato prima Ah, in cui mi lancio, vero? Sì Immaginavo No, no Quindi se ti butti in alto a destra, sì Eh, vedi Oh, oh Via, 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 via Let's go, let's go Sul primo, sul primo Grazie Si sento, bra Oh, Fra, mi sta di nuovo chiamando qualcuno, Foxy What? What? Foxy, senti Eh, hand My phone number My phone number Bye, 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 bye Bro, eh Call me later, ok? Call me later Because I'm in game Call me later Ok, Foxy Gli ho messo giù Fra, il problema è che mi ha chiamato con lo sconosciuto Non col suo numero Quindi non posso Cioè, non posso richiamarlo Beh, non puoi richiamarlo Però gli ho detto Call me later Comunque Che vuol dire Chiamami dopo Magari sì Stanotte ti richiamo All'una di notte No, vabbè Cosa c'è L'una di notte metto il telefono in modalità aereo Innanzitutto Però gli ho detto Perché metti il telefono in modalità aereo sempre? Eh, perché non voglio che nessuno mi chiami Fra, mentre sto dormendo Comunque Fra, se faccio tre vittorie su tre Sono ufficialmente il player più forte in Italia di StumbleGuys Confermi No Fra, ma sono tutti scarsi Ma guardali Sì, tu ti scarsi Intanto prima Tu non ti sei qualificato Che segno Perché ti sto facendo il provino Ah, ok Ora è tutto più chiaro Ora è tutto più chiaro Guarda intanto Chi è ora il primo? Io Fra Io Sono sempre io Ah, comunque questa qui è la mappa Dove prima tu non sei riuscito a qualificare Sì Guarda, ora ci riesco 100% Guarda un po' chi è il primo Guarda un po' chi è il primo Fra Assurdo di nuovo Guarda un po' soltanto un secondo Chi è il primo Fra Let's go Ma non c'è qualche trick da fare in questa mappa No, Fra Devi soltanto non morire No, non dirmi che non ti qualifichi di nuovo, eh Non dirmi Che culo, che culo Fra, devi solo andata dritto Devi solo andata dritto adesso, Fra Devi solo andata dritto, Foxy Ce la puoi fare Aiuto, Fra Che cacca succede? Che cavolo Ma, Fra, ti hai ribaggato completamente Ok, ok Che posso credere Finalissima, finalissima E comunque non mi sta giusto un po' chiamando nessuno Però, già che mi ha chiamato uno Sono abbastanza contento Chi fa questa, Fra Ha vinto tutto Foxy, impegnati perché è l'ultima partita E non voglio vederti perdere Ma io tanto su sta mappa sono un mito, Fra Fra, sì Infatti ho visto che se prima non finiva il tempo Avevi perso Me lo ricordo bene Quindi ti mito non tanto Io ti giuro che qui potrei andare avanti Non so per quanto tempo Fra, giuro Sono proprio forte Allora, Foxy Rimaniamo Non devi morire, Fra Voglio rimanere 25 minuti Non morire mai Non morire mai Cerca di non morire Foxy, passare da quest'altra parte qua Ma come cavolo si fa in questa mappa di libertà? Non ho un'idea Ho vinto io, mi sa Come hai eliminato? Ma sono stati Come hai eliminato? Come ha fatto? Ah, c'è uno che Ah, c'è uno che era rimasto Ah, c'è uno che era rimasto Sì, sì, sì Fra, in quel punto lì non sapevo come fare, giuro Comunque va bene Però non mi ha ancora Cioè, quello di prima non mi sta richiamando, eh E non mi ha più Siccome si è rotti Cioè, ho visto che l'ho mandato praticamente Gli ho detto Non chiamarmi più E non mi ha più richiamato Oh! Mi sta chiamando qualcuno, Foxy Hi Bro Bro, you listen me You listen me What is pozo? Bro, what is pozo? Bro, che cazzo Dire pozo! Bro Where are you from? Where are you from? Bro, where are you from? Bro Your mother Your mother bozo Bye, bye, bro Bye, 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 bye E raga, sto qua mi stava insultando la madre Mi fa Your mother bozo Allora Scrivete sotto nei commenti Cosa vuol dire bozo Se ho una parolaccia Non scrivetelo Adesso mi informerò io Che cazzo vuol dire bozo? Oh, raga, mi sta chiamando un altro Mi sta chiamando un altro, Foxy Hi, bro You listen me What? Speak, speak Italian Where are you from? Where are you from? Ucraina Ah, ok Good, Ucraina Good, good Bye, bro Bye, bye, bye Raga, ma che cazzo Mi ha chiamato un ucraino Che cazzo Secondo me mi stava tipo insultando in ucraino Questo, ma che cazzo Direi che vado a ricambiare il nome Nel mio nome normale Va?